Questa mattina inizia la giornata tanto consolato ieri da tanti fai momenti e la vita è fatta di gioie e dolori, ci portiamo nel cuore di Tiziana, nostra Tiziana da gennaio ce l'avevano portata da Caeta perché rimaneva un po' in giro vacante e da gennaio dormire insieme con noi e questa notte purtroppo che strada infatti non è rientrare a dormire nella nostra tenda di accoglienza una preghiera per Tiziana, nell'attesa Tiziana del Regno nell'attesa di poterle celebrare le seguie ringraziando sempre tutti gli operatori che ci permettono di accogliere e di poterle accompagnare ora in questo momento la affidiamo a Don Bosco, purtroppo l'alcol è a Maria Osiriatrice che la custodisca ecco questa sera alle nove e mezzo scopriremo la taglia di Peppe, sono due mesi oggi che è morto, lì a Vievato Ceraso e accompagniamo anche Tiziana questa è la vita, accompagnare la crescita dei più piccoli e accompagnarci gli uni gli altri fino al compimento del nostro cammino qui su questa terra è un cammino che non finisce qua, però da qua parte, qui ci sono le radici dell'eternità ecco questo legame, spero che ci accompagni sempre di più anche nell'eternità che custodiamo di questi legami Tiziana, alle cose in pace ecco chi era conosciuta, soprattutto a Gaeta scriveva poesie, si, spazzata era artista doveva l'oltre ecco faccio una preghiera per lei appena potremo saremo i federali ciao Tiziana Tiziana